Benvenuti ragazzi a questo nuovo video in cui andremo a smazzolare un po' di gente Bello, Dead or Alive 5 New York in quel momento Niente perché siamo a New York Allora, c'è una palestra E che cosa succede a New York in quel momento? Secondo te chi vince tra i due? Eccoci Con chiudi E' la trippa Nooo Te l'ho detto, facciamo Dead or Alive, eh, non è che... Mila ha vinto la vittoria Vittoria Mila e vittoria Bene, perché c'è questo clone gigante che sta distruggendo Tokyo Si è Che stai dicendo? Stanno creando un altro Godzilla Per farlo combattere contro di lei Allora, questo gioco finisce col clone di lei che deve battere Godzilla Dai, piantala, dai Oh, fai del tuo meglio Che strazzi E' quello che usi te E' ricco E come mai combattono, vedi, fai saltar tutto Magari questi sono i creatori di Godzilla Sicuramente Credo che in effetti questa sia la... La base dove stanno progettando Godzilla Oh, 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 oh Se ti fai menare così, anche te Vedi, vedi, sta usando la croce direzionale Adesso lo sta menando, è brutto Ha pestato i piedi Si è arrabbiato questo Eccolo lì Bene, torniamo Va bene, dai, molto interessante Bello, bella la storia, bellissima No, molto profonda Voglio vedere voi combattere Con i scacchi Senti, Lisa, ascoltami Si chiama Lisa? Si, eh, Lisa Hello Cioè, praticamente Perfect round, ragazzi K.O. K.O. baby, K.O. Antarctico Antarctico Si, ed ora hai tradotto bene, hai scritto bene Antarctico, no Che è come combattere un orso polare Bianco e bianco Che ti fa un colpo Ma tu cosa stai cercando di fare? Passagli sotto le gambe Ma vedevo che era lì Dai, dai, vai Vai, vai Ancora con il calcio Fuori dai piedi, va Vai, fuori dai piedi Vai, tram Fuori dai piedi Ma no Così? Dai Potevo fare quello perfetto Potevo fare Comunque questa qui Mi fa tutte le mostre di wrestling Vota per noi Non si sbilancia Sta solo guardando Dai, ti sfido Dai, vediamo quanto sei forte Vai, vai Dai, Elliot Occhio Elliot che la... Sta amenando però Eh, sì Elliot, hai rotto il tavolo E non va bene sta cosa Devi ripagarlo però Infatti Screanzato Eh, non mi lascia respirare Eh, eh, eh Ecco Adesso io non lascia respirare Eh, è giusto Quale è la te... Sentiamo Momento di Luca Prego Spiegaci la tua Allora, la tecnica Funziona nel Nel riuscire A non dargli respiro Intanto cominciamo da Un calcio Involata Anzi piano Mi dice la signora Piano, piano Che mi rompe di tutto quanto Piano Piano Signora Questa come è bella Hai imparato a dare il misterio Dai un colpo Dai un colpo Dai un colpo Dai un colpo Bravo Eh ragazzi Questa è bravura Allora, la vecchietta La vecchietta Yeah, yeah, yeah Ah ecco Ancora Allora 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 Com'è qua la presa Con la like No, con la Con la Che brutta piegatura Pello che fa lì No, basta Adesso mi rompi però Non dobbiamo usare più Adesso io osserverò Ah, molto attentamente E commento I tasti che schiaccia Destra Sinistra XA Sinistra Giù Destra Dunque Y Destra Sinistra X Caso Ah, qua c'è Qua c'è la combo XA Le sequenze che sta usando Stanno funzionando Però adesso è rimasta terra Giù, giù, giù Giù lo sta schivando XB, Y, Y Tu madre No, no, no Spoiler Spoiler Salta Oh mio Dio Non si parla Sfile Non è possibile È stata schiusa Da un uomo di Godzilla No No Non è possibile Allora, chi è? Ma cos'è? Jackie Chan No, è stato digitalizzato Per quello Dicono E la Madonna E la Madonna E la Madonna E la Madonna What the What the Ecco Adesso 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 cosa fai? Potrei essere il figlio di Bruce Lee Ma nessuno è uguale a lui Ah, comunque Questo qua è Quello di Street Fighter È Napoletano questo È il pizzaiolo No Akira è morto, no? Però A demonare Ammon Ricordate Mila Adesso uso il Mila Contro scivo Hashtag elicotteri Hashtag elicottero La cacca Hashtag Elicotteri Godzilla La cacca di La cacca di Godzilla Sono elicotteri Tutti quanti così Hashtag Sì, ma non dir tutto Cioè, è già detto Che alla fine La cacca di Godzilla Verrà trasportata Con degli elicotteri E calata sulla città No, è davvero Si Dice così? Eh, si Ah, ah Molta presa La Madonna No Rey Mysterio E la mena di botte E la caccagna E capo Ting 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 Chi è questo? Nooo Questo è il mitico Eh, è tipo Non lo voglio sapere No, no, guarda che Questo qua È lubriaco È lubriacone Sì, sì È lubriacone Si è creato un'altra barra Mi sa che è tank team questo E infatti Oh Bello Oh, è un È un Ma che Ma che balotto Oh Oh, dai Tina Vai Tina E come hai fatto? E lì là Parte subito Cos'è quella Guarda che È straforte lui Guarda com'è il titolo Vediamo Tina Che è più forte Come no Cos'è quella roba? Grande mossa Eccosi qua King Kong La super La madonna La Tom Stone Dai fallo fuori Dai Vai Cos'è Vai Vai Fallo fuori Grande 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 Dai Questa volta Sei morta subito Fatti tutto lei Vittoria Vittoria Sì Grazie Grazie Certo che È leggermente ridicolo Che è tutto così Va bene Ma è un pimp lui È un pappone Ah Ecco perché Vai 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 Oh Come è qua Amico Amico Attento Stai attento Che sei a New York Stai attento Stai attento Stai attento Stai così Non è una cosa che bisogna fare Il giorno dopo Bene Bene ragazzi Non vogliamo spawnare Che per oggi È tutto Tanto sanno già come finisce il gioco Non è che Si sa Godzilla C'è la cacca di Godzilla Che venne droppata Da elicotteri Sopra Sopra il Tokyo Ragazzi è stato un piacere Ci vediamo lunedì con i prossimi video Ragazzi Se siete grandi Numeri 1 4 Perché noi siamo i 3 Voi siete il 4 Ciao 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 Ciao